C'è ad esempio uno straniero che nessuno lo conosce a dispetto del nome, Elio Sergio Fortunato, che venne, un argentino, che venne in Italia proprio nell'80, e anche lì ci sono dei parallelismi con lui Silvio Danuello, perché Danuello si racconta che lui disse di essere un'ala, in portoghese una ponta. Invece i dirigenti della pistevese gli chiesero se è una punta, e ci fu questo equivoco, tant'è che loro lo schierarono come centravanti quando lui in realtà era una folgorante ala destra, e per questo ci fu un equivoco tattico. La stessa cosa successe a questo fortunato che era un centravanti, ma Olivieri, allenatore del Perugia dell'epoca, gli diceva di andare sempre in pressing sui difensori. E lui infatti, proprio per questa ragione, non riuscì mai a segnare, tranne nelle ultime due gare di campionato, in cui si prese la sua rivincita e si autoproclamò, sono stato il più straniero degli stranieri, proprio per questa ragione. Alla fine poi, volevo inoltre dire che il libro è stato, sicuramente conterà alcuni peccati di gioventù, perché comunque il libro è stato partorito in tre mesi. Tre mesi in cui ho scritto nei ritagli di tempo, ho cercato di aggiornarmi, di sistemare cose magari, perché comunque prima di dire una cosa è sempre meglio valutarla bene. Alla fine però comunque sono soddisfatto del risultato e il mio obiettivo è quello di riuscire a donare un sorriso, a far strappare un sorriso a chi lo leggerà, perché comunque anche chi non capisce di calcio leggerà delle cose che non hanno nulla a che vedere. Lo stesso Caraballo, il giocatore del Pisa, è un mito perché si disse che chi andò, i dirigenti del Pisa che andarono in Uruguay per ingaggiarlo, ingaggiarono lui su segnalazione di un tassista. E poi si racconta che adesso sia proprio lui a svolgere questa professione, tra Caracas e Montevideo. Sono voci non confermate ufficialmente, ma già il fatto che si raccontino sono decisamente mitiche. A Pisa hanno coniato il detto Caraballo, meglio perderlo che trovarlo. Oppure addirittura Caraballo gioca bene nell'intervallo, perché... E queste sono cose che sono segnalazioni che mi hanno scritto dei tifosi del Pisa, dei tifosi di altre squadre, perché comunque sono soprattutto le realtà locali che raccolgono questi aneddoti, queste informazioni, queste cose che entrano in un calderone e raccontano un po' le peripezie di giocatori che ci hanno provato ma non sono riusciti nel loro intento. Ma almeno ci hanno provato, diamogli per questo merito.